Voi non l'avete visto ma lui prima della partita a Schiavo ha detto oggi ne prendi tre A chi? A Schiavi Ma lui si sono beccati con Schiavi all'inizio Lui si sono beccati con Schiavi all'inizio Ha detto oggi ne prendi tre Ha fatto il gol e la salita a Schiavo l'ha chiamato e ha detto uno Poi arriva di Aia e ha detto due Aspetta che ha diventato Cioè